L'altro ha fiuto e non gli sfugge nulla. Mi ha andato. Benvenuto fra noi. Una nuova e irresistibile coppia con il protagonista di quasi amici. La frappettina di questa bravata. Due agenti molto speciali. Dal 28 marzo al cinema. Dal 21 marzo gli italiani avranno qualcuno su cui contate. Benvenuto a questo momento. La frappettina di questa bravata.